Abbiamo un'altra condizione atletica, non ce n'è per nessuno. Il calcio di punizione vuole il nostro della via Fusca-Seprentano. A questo secondo tempo i ragazzi sono riusciti più incavolati, grintosi e stiamo chiudendo gli avversari nella loro metà campo. Abbiamo avuto già un paio di occasioni che se state meglio potevamo già pareggiare. A questo secondo tempo abbiamo... Albedro, non fai così! Albedro, non fai così! Albedro, non fai così! Albedro, a testa!